segnalazioni dei pesaresi nasce l'osservatorio per il decoro chiudono le attività il declino di piazzale primo maggio fano sgomberato il convitto colonna da 10 stranieri abusivi prima neve a urbino sulle montagne si torna a sciare carnevale di fano pronti carri spilate e 180 quintali di dolciumi ben ritrovati su rossini tv e benvenuti al nostro telegiornale di oggi venerdì 20 gennaio apriamo questa edizione occupandoci di varie varie tematiche riguardanti il centro storico di pesaro da oggi infatti le segnalazioni dei cittadini sulle incurie della città avranno uno sportello d'ascolto diretto dal comune di pesaro un osservatorio per il decoro urbano organizzato dall'assessorato all'innovazione di francesca franquellucci che ci illustra i suggerimenti emersi proprio in questa prima giornata devo dire che è stato un incontro molto proficuo a partecipare insomma hanno partecipato persone che sono attente al decoro della città mi ha fatto molto piacere che hanno dato delle idee e anche delle proposte però quello che emerge purtroppo e che tante volte è il cittadino che non è educato a tutto ciò che è il decoro quindi dobbiamo lavorare migliorare sicuramente la comunicazione in questo senso e dobbiamo tutti amare di più la nostra città perché appunto nel 2024 sarà capitale della cultura quindi questo osservatorio che io ho aperto l'ho fatto proprio per alzare l'attenzione è vero che noi come comune dobbiamo assolutamente migliorare alcuni punti della città e dobbiamo stare attenti ad esempio alle fioriere alle biciclette che vengono lasciate sparse in tutta la città oppure anche i bidoni della spazzatura e dobbiamo stare attenti sicuramente anche noi come comune e coordinarci quello che ci è stato richiesto dall'osservatorio l'importanza del coordinamento tra assessori anche perché io mi occupo del decoro però quando parliamo di decoro parliamo anche di opere pubbliche parliamo anche di partecipate come aspers marche multiservizi quindi tutti si devono mettere in moto ma per primo deve essere il cittadino anche perché oggi nelle varie criticità che hanno fatto presenti i cittadini è emerso le cicche delle sigarette in terra come ripeto l'abbandono delle biciclette oppure i bisogni degli animali nelle vie secondarie del centro o l'abbandono del proprio rifiuto in vie secondarie per non farsi vedere ecco tutto questo deve essere educato secondo me il cittadino quindi dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini pesaresi e noi per primi come comune è chiaro che dobbiamo dare il buon esempio iniziare quindi delle azioni che vadano nella sistemazione della città ad esempio ci siamo accorti anche da tutti i documenti che mi hanno portato e mi ha fatto molto piacere il quartiere centro ha lavorato tantissimo anche la consigliera Miranda Paolucci si è data da fare in questo anno portandomi tutte le segnalazioni le fotografie e quindi abbiamo anche chiesto la rimozione di alcuni chioschi sfitti da anni che non aveva senso che rimanessero senza un'apertura e poi anche il lavoro che è stato fatto con il quartiere dove abbiamo fatto una mattina tante fotografie dove ci siamo rese conto concordo con i cittadini che vivono in piazzale primo maggio che assolutamente dobbiamo migliorare quella zona però ricordo anche a tutti che adesso abbiamo questa opportunità del CTE quindi la casa delle tecnologie emergenti quindi dovremmo anche cercare di puntare sulla tecnologia per andare a migliorare quegli edifici che ancora non sono stati ristrutturati o sono da sistemare. E tra i luoghi citati dall'assessore meritevoli di intervento c'è anche piazzale primo maggio un'area cittadina in cui diverse attività stanno chiudendo purtroppo i battenti. Cinque negozi chiusi in appena un anno basterebbe questo dato per capire in che è disperata situazione vive l'area attorno al piazzale primo maggio punto di collegamento tra il centro storico e la zona mare. A lamentare il degrado che negli ultimi anni è cresciuto in questa parte di Pesaro ci sono non solo i cittadini esausti del traffico poco controllato di una piazza che mostra carenze di illuminazione di verde ma anche i commercianti che non vedono più nell'area il potenziale economico che per posizione dovrebbe far fruttare. Lamentele raccolte anche dal coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia così come dai consiglieri della lista ascoltiamo Pesaro. Le segnalazioni sono diverse dal manto stradale alla piazza al verde e diciamo così anche al fatto che questa zona è un congiuntamento fra quello che è mare e centro ed è l'unico punto dove auto possono passare mentre a differenza dell'altra zona del centro storico sono tutte in ZTL. Quindi questo fa sì che essendoci un grosso traffico anche quello che sono le attività commerciali ne soffrono. C'è carenza di parcheggi e questa confusione porta a segnalazioni all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale ad oggi ancora risposte non ne ha date. Siccome le risposte non sono arrivate il 22 giugno del 21, questa è la data precisa, il consiglio di quartiere si è riunito e ha deciso che quello che naturalmente l'amministrazione comunale tutti gli anni dà al quartiere per poter fare opere e destinare queste cose per organizzare cose di fine anno eccetera per ravvivare un pochettino il quartiere e ha preso questi pochi soldi e li ha destinati a quelle opere, a cercare di fare quelle opere che l'amministrazione comunale non ha fatto. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare per bene e hanno fatto poco però qualcosa hanno fatto. Il manto stradale è stato rivisto in qualche cosa, le piante sono state bene o male potate, si è stata fatta un po' di pulizia, sono stati creati dei passaggi anche per i disabili da uscire da marciapiedi o meno, però questo è pochissimo per poter fare questo. A marcare la mancata cura che vive attorno all'area di Piazzale Primo Maggio ci pensa anche l'ex carcere giovanile che si è presente in una condizione di completo deterioramento, stabile per il quale il sindaco Ricci circa due anni fa annunciava un accordo con la provincia per riqualificare il fabbricato. Il sindaco Matteo Ricci il 28 aprile del 2021 annunciava con un accordo che c'era stato un accordo con la provincia a trasformare il fabbricato in una scuola legata alle arti e alla creatività. Allora ecco questa qui è quello che noi sappiamo ancora non è diciamo così, non sappiamo nulla di questo. Naturalmente questo sarebbe di gran cosa per tutta questa zona perché naturalmente la situazione è che è da anni fermo, quindi questo stabile è comunque invecchiato, quindi si ritrovarsi con uno stabile nuovo, con un'idea nuova di questo piazzale potrebbe ravvivare quello che diciamo così, quello che i residenti chiedono. E chiudiamo questo ampio spazio dedicato al centro storico di Pesaro occupandoci anche dei totem digitali che da ieri sera sono stati installati offrendo un salto di qualità all'informazione sui servizi e sugli eventi cittadini. Siamo andati a vedere allora come funzionano questi totem e quali possibilità offrono. Ci troviamo in Piazza del Popolo, Angolo via Rossini, uno dei luoghi dove da ieri sono stati installati quattro totem digitali, quattro dispositivi informativi, innovativi che portano a un valore aggiunto sull'informazione cittadina dagli eventi alle possibilità della città in vista anche di capitale della cultura. Totem che sono stati installati in Piazza del Popolo, in Piazzale Matteotti alla Palla di Pomodoro e in Piazzale Lazzarini ne arriverà anche un quinto in corso 11 settembre. Una novità fortemente voluta dall'assessorato alla cultura e dall'assessorato all'innovazione. Sono molto contenta e soddisfatta, abbiamo iniziato un anno fa con questo progetto e oggi si è realizzato. Poi durante il cammino anche insieme all'assessore Vimi abbiamo appunto perfezionato per fare in modo che funzionasse bene. A realizzare i totem, l'azienda iConnect Solution, azienda di Parma che si è aggiudicata il bando comunale di Pesaro dedicato a questa novità, Ermanno Brambilla, responsabile della società emiliana, ci illustra il funzionamento di questi dispositivi. Il totem che stiamo visualizzando è quello di Piazzale del Popolo ed è una delle due versioni che abbiamo fornito al comune in touchscreen. Il funzionamento è molto semplice, c'è una banda orizzontale con le lingue, cliccando la lingua di riferimento l'utente che si posiziona davanti alla macchina può scegliere quale icona consultare. In questo caso abbiamo Pesaro ed intorni, cliccando sopra si aprono le varie aree di esplorazione e se per esempio andiamo nell'area musei, troviamo alcune foto identificative dei luoghi da visitare, per esempio musei civici, ci andiamo su, abbiamo una didascalia, una descrizione del tipo di punto di interesse che stiamo visualizzando, una galleria fotografica che cliccando esplode a tutto schermo e poi può essere o selezionata scorrendola in questo modo oppure tirandola, però è la stessa cosa. Quando si ritorna indietro c'è la possibilità di utilizzare la mappa, quindi uno va sulla mappa, si vede molto bene il punto in cui è installato il totem e il punto di arrivo e per facilitare il raggiungimento del punto di interesse cliccando questo pulsante si apre un QR code che fotografato, apre immediatamente le mappe di Google per appunto accedere al punto di interesse. Se torniamo indietro e per esempio una cosa interessante che è stata fatta è stata soprattutto sul discorso manifestazioni ed eventi, linkare direttamente la pagina del comune con il calendario degli eventi e scorrendo c'è la possibilità di vedere tutti i tipi di manifestazioni, eventi o news che vengono comunicate direttamente dall'amministrazione comunale. L'altra cosa interessante è che è stato pianificato l'utilizzo di un tasto disabili cliccando il quale tutta la parte contenutistica viene abbassata da uno spazio di 70 fino a uno spazio di 120 cm in maniera tale che anche appunto i disabili abbiano la possibilità di avere una facile consultazione. Lasciamo Pesaro ed ora passiamo a Fano dove la polizia questa mattina è intervenuta nuovamente all'ex convitto Vittorio Colonna dove ha identificato dieci stranieri accampati ad alloggiare abusivamente nell'edificio abbandonato in condizioni igienico-sanitarie e fatiscenti tra rifiuti, polvere, vetri rotti e residui di combustione. I dieci individui sono stati denunciati per il reato di invasione d'edificio e per quattro di questi è in corso l'approfondimento sulla loro regolarità sul territorio nazionale per un eventuale decreto di espulsione. A Pergola i carabinieri hanno denunciato a piede libero un cinquantenne trevigiano e un quarantenne padovano, entrambi pregiudicati, responsabili di un'effrazione allo sportello di una macchina parcheggiata in piazza Brodolini con conseguente furto di due carte di credito custodite in una borsa. Con le stesse carte sono stati effettuati due prelievi Bancomat per 2.850 euro complessivi da una banca di Padova. La donna, vittima del furto, ha fatto denuncia ai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della filiale in questione, dove però i due soggetti apparivano irriconoscibili in quanto incappucciati e con mascherina. Acquisendo però anche le immagini dei centri commerciali di Pergola vicino al luogo del furto, sono riusciti ad individuare i visi degli stessi soggetti. Grazie agli archivi sui simili precedenti di furto, a quei volti, si è riusciti a dare un nome e sono scattate le denunce. E nel nostro telegiornale di ieri sera vi abbiamo raccontato l'aggressione avvenuta al personale del pronto soccorso di Pesaro. Episodi incresciosi che a distanza di un anno sono tornati a ripetersi, ma questa volta con conseguenze attenuate grazie al nuovo protocollo di sicurezza dell'ospedale. Una grave aggressione fisica agli infermieri del pronto soccorso a 14 mesi dall'ultimo episodio che scatenò una plateale protesta con flash mob di tutto il personale sanitario con il quale solidarizzò anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, venuto all'ospedale San Salvatore per l'occasione. Da quell'episodio fu però istituito il presidio con guardia armata H24 al pronto soccorso, un presidio che la stessa azienda sanitaria territoriale giovedì ha reputato fondamentale nell'ottemperare un protocollo di sicurezza che ha funzionato nell'arginare la furia del ventenne in stato d'ebrezza arrivato in ambulanza al pronto soccorso dopo un incidente stradale. Il giovane ha dato in escandescenze danneggiando la sala d'attesa prendendo per il collo un infermiere e minacciando altro personale, il tutto girando seminudo. Il protocollo ha funzionato col presidio che ha attivato la chiamata di emergenza alle forze dell'ordine tramite il pulsante di allarme installato nei diversi punti del pronto soccorso, un dispositivo che ha permesso l'intervento tempestivo dei carabinieri per sedare l'aggressione e procedere con l'arresto. Nella negatività dell'episodio dunque la positività di un protocollo che indica una strada che può lenire lo stress già esasperato della categoria. Io voglio quindi esprimere, ripeto, la mia solidarietà anche perché ritengo che questi siano fatti molto gravi ma soprattutto nei confronti di persone che dedicano la loro vita con dedizione, con professionalità per curare, stare vicino alle persone che stanno male, che hanno problemi fisici, problemi di salute e che molto spesso grazie al loro intervento riescono a salvare le vite umane. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla prima neve di questo inverno caduta in mattinata nella città di Urbino, una lieve spolverata che è stata invece ben più consistente nelle principali cime dell'entroterra pesarese. Vi mostriamo infatti come si presentavano oggi Catria, Nerone e Monte Carpegna con diversi centimetri di coltre bianca che, alla luce delle basse temperature previste nelle prossime ore, porterà per la prima volta in stagione ad aprire gli impianti sciistici fra domani e domenica. In tutte le tre montagne si sta lavorando alla preparazione delle piste. Importante accordo avviato oggi tra l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino e l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche che metterà a disposizione i propri specialisti per consulenze di chirurgia, anestesia e rianimazione pediatrica presso gli ospedali San Salvatore, Muraglia e Santa Croce di Fano, evitando così alle famiglie di dover affrontare trasferte per le cure con i disagi e i costi che ne conseguono. Gli specialisti delle diagnosi complesse affiancheranno infatti i professionisti ospedalieri attraverso sedute mensili di attività ambulatoriale, chirurgica, operatoria e anestesiologica, pediatrica rivolta ai piccoli pazienti di età superiore ai 12 mesi. Nel Comune di Pesaro si è svolta ieri la prima consulta della sostenibilità, una novità proposta dal neoassessore Maria Rosa Conti, che ha creato una prima occasione di confronto con le associazioni che si occupano di ambiente, salute e volontariato, per dare avvio ad un dialogo e un percorso di cooperazione con l'amministrazione sui progetti futuri, su tutti il progetto di Capitale Verde Europa e la connettività di ecosistemi ambientali urbani. Sempre nel Comune di Pesaro si è svolto questa mattina il primo incontro della rete istituzionale antiviolenza Virginia, creata a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti e violenza, fra ambito territoriale e sociale 1, prefettura delegati di forze dell'ordine, sanità e ordini professionali. L'obiettivo è quello di spingere su azioni concrete che riguardano il reinserimento sociale e lavorativo di tutte le persone vittima di violenza di genere. Un grande scultore per omaggiare un grandissimo architetto, Giuliano Vanci, realizzerà un monumento in marmo bianco di Carrara e acciaio inox in omaggio a Vitruvio, che verrà collocato appunto a Fano. Una grandiosa opera monumentale proposta dal centro studi Vitruviani e commissionata grazie all'impegno economico di Fondazione Carifano, progetto che ora cerca altre sponsorizzazioni per formalizzare e avviare un progetto che, oltre ad una statua di 3 metri, prevede un vero e proprio intervento urbanistico in piazza a Veduti, dove è prevista la collocazione del monumento. E continuiamo a restare a Fano perché dopo tre edizioni cancellate o ridotte torna nella forma tradizionale e completa il Carnevale di Fano, fra carrie allegorici e 180 quintali di dolciumi ad attirare migliaia di visitatori nelle sfilate previste nei primi tre weekend di febbraio. Vediamo. La città di Fano è pronta a tre anni di distanza a mascherarsi del suo Carnevale nella maniera tradizionale che la distingue in tutta Italia. Saranno le domeniche del 5, 12 e 19 a intrattenere decine di migliaia di persone che saranno attirate dalle innumerevoli attrazioni della festa in maschera più antica della penisola. Non mancherà il famoso getto, lo storico lancio di dolciumi dai carri, dando vita ad una tempesta di dolcezza con circa 180 quintali di cioccolatini e caramelle fornite dall'azienda Dulciar. Un fiume di dolci e allegria che riempiranno il corso mascherato a pochi passi dalle mura romane. Siamo molto felici e emozionati di questo. Iniziamo la prima settimana con il botto perché sarà con noi una grande radio RDS, con tutti i pazzi per RDS, con Rossella Brescia, Barza e Ciccio e quindi partiamo alla grandissima. Tornano i veglioni, tornano i veglioni per i bambini, le grandi sfilate, il getto dei dolciumi logicamente e poi abbiamo una grande collaborazione quest'anno, visto il tema che è spazio all'arte, con l'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi saranno presenti con noi con due eventi e verrà a trovarci anche Paolo Nespoli che è il grande astronauta. Quindi siamo molto emozionati per questo, abbiamo grandi collaborazioni. San Marino che ha creduto moltissimo nel Carnevale e c'è una grande collaborazione anche con la Repubblica di San Marino, il centenario della musica arabita e quindi tante tante novità. Si può andare sul sito, vedere tutto il programma, tesserarsi, comperare un palco, venire sui carri a gettare i dolciumi, insomma ce n'è per tutti. Quindi buon Carnevale, viva il Carnevale, vi aspettiamo. Sono quasi tre anni che abbiamo celebrato il Carnevale o da remoto o in forma di distanza, invece torniamo con le grandi sfilate, con un programma ricchissimo, pieno di contenuti, pieno di feste, pieno di quei valori che caratterizzano il Carnevale e soprattutto poi la cartapesta, i nostri artisti, artigiani del Carnevale che sono i maestri carristi. Quindi siamo contenti, siamo pronti, la città è pronta e se anche il tempo ci aiuta sicuramente sarà una ripartenza straordinaria. 12 carri sfileranno per le vie della città della fortuna, 6 di prima categoria e 6 di seconda, con innumerevoli mascherate che li precederanno. Il Carnevale di Fano anche quest'anno ha pensato di rivolgere il suo sguardo sia al divertimento ma anche all'arte. Sui quattro carri principali, alti fino a 18 metri, apparirà un omaggio ai Pink Floyd in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione dell'album The Dark Side of the Moon, alla poesia da Dante ad Alda Merini e all'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Intanto il Carnevale è irriverente perché è giusto che giochi anche sull'ironia, sulla presa in giro, ma è anche intelligente, è anche un modo per trasmettere dei messaggi e parliamo della ricerca, della scienza, gli astronauti che sono un orgoglio per il nostro paese come Samantha e quindi saranno anche questi elementi, saranno protagonisti del nostro Carnevale. Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato il progetto di realizzazione del primo racing team Animalista d'Italia, un progetto che nasce attraverso una campagna di crowdfunding appena iniziata e che vi illustriamo in questo servizio. Intanto sono stati superati i primi 4.000 euro, primi contributi raccolti per avvicinare l'ambizioso traguardo dei 67.000 euro necessari alla realizzazione del primo racing team Animalista d'Italia attraverso la campagna di crowdfunding partita il 18 gennaio. Un progetto presentato dal pilota animalista Giacomo Lucchetti lo scorso sabato a Villa Viralfiore volto alla creazione di una struttura che veicoli un cambio di mentalità sulla sensibilità verso gli animali bisognosi attraverso un contesto molto particolare come quello motoristico. L'obiettivo è realizzare una struttura tecnica che opera i 365 giorni l'anno in aiuto degli animali bisognosi, commissioni di soccorso presso rifugio e centri di recupero ospitanti animali in difficoltà, oltre a campagne di sensibilizzazione verso raccolte alimentari presso circuiti, piazze e centri commerciali nazionali. Il tutto assieme ad una squadra corse di alto livello composta da moto, furgone, box e stand hospitality. L'obiettivo economico è molto ambizioso perché dall'acquisto del furgone all'acquisto della struttura che sarà sempre presente durante le campagne di sensibilizzazione, le raccolte alimentari, fino ad una nuova moto su cui posizionare tutte le campagne di sensibilizzazione in tutti i circuiti in cui andremo a correre. Quindi portare l'attenzione di tanti appassionati di moto verso una tematica animalista che oggi come oggi purtroppo segna ancora dei numeri disastrosi, specialmente purtroppo al sud Italia. Sono state oltre 50 le missioni di soccorso che abbiamo svolto fino ad oggi e purtroppo se le amministrazioni locali non si sveglieranno, purtroppo questa tematica difficilmente andrà a spegnersi. Per aiutare a creare il primo racing team animalista d'Italia si può donare accedendo al portale appela.com e recapitare il proprio contributo registrandosi in modo semplice. Appela è facilmente raggiungibile anche dal link presente nel sito Cuore in Corsa registrandosi e cliccando contribuisci per poi scegliere importo e metodo di pagamento e infine procedere con effetto a donazione. Ogni livello di importo sarà contraccambiato da una ricompensa di Cuore in Corsa. Il crowdfunding si concluderà il 28 febbraio. E allora l'invito è proprio quello di donare anche una piccola somma per aiutare questo primo racing team animalista d'Italia che nasce proprio dalla città di Pesaro. Adesso invece andiamo a vedere la programmazione su Rossini TV. Innanzitutto questa sera alle 21.20 è con piacere che vi mostriamo questa bella commedia della Compagnia dell'Anello che si chiama Il funerale di papà. E poi domani mattina torna la nostra rassegna stampa. Con voi ci sarà il nostro Marco Cadeddu in diretta alle 7.20. E poi questa sera se volete potrete rivedere alle ore 23 i racconti della generazione Z nel nostro spazio Z. Questa sera si parla di Liceo Mamiani. Questa stessa puntata la potrete trovare domani sabato alle 15.20 oppure alle 22.00. e se vi siete persi la puntata di giovedì di Insieme a Canestro la potete vedere domani sabato alle 11, alle 16.15 e alle 22.30. Vi ricordiamo sempre che potete scaricare la nostra applicazione, è gratis, ma vi permette di avere Rossini TV sempre con voi anche se andate fuori regione e seguire i nostri approfondimenti per l'informazione e i nostri programmi. Grazie mille per averci seguito, vi auguro una buona serata, un buon weekend e arrivederci presto su Rossini TV.